Buongiorno a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni meteo per il weekend dedicata alla rete escursionistica del Piemonte. Il fine settimana sarà l'insegna di condizioni tipicamente estive nel corso della giornata di sabato, con momenti più soleggiati nella prima parte della giornata e formazioni comuniformi al pomeriggio, associata a deboli rovesci sparsi sulle aree alpine, mentre la giornata di domenica sarà caratterizzata da instabilità in accentuazione più diffusa a causa di un'ondulazione del campo di pressione in quota. Ma veniamo nel dettaglio alle previsioni. Sabato i cieli si presenteranno in prevalenza soleggiati al mattino. Nel corso del pomeriggio le vallate alpine vedranno lo sviluppo di nubi comuniformi che daranno luogo a qualche rovescio debole o al più localmente moderato e a carattere sparso, più probabile tra alpicozze e marittime. Le temperature sono previste stazionario e lieve aumento. Lo zero termico è atteso intorno ai 4.400-4.500 metri. I venti soffieranno deboli o moderati sui rilievi alpini, da ovest-nord-ovest, con qualche locale rinforzo per fenna al mattino in Valdossola. Deboli variabili sul settore appenninico e sulle aree colinari. Domenica i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi, con ampi sprazi di sole ancora al mattino sul Langa Roero e sul settore appenninico. Le precipitazioni interesseranno dapprima le vallate alpine e poi nel corso del pomeriggio avremo rovesce temporali sparsi che andranno ad interessare anche le aree colinari e le zone appenniniche. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, le massime sono attese e deve calo mediamente di un grado. Lo zero termico si porterà sui 4.300-4.400 metri. I venti soffieranno deboli o localmente moderati a tutte le quote, prevalentemente occidentali sulle cime alpine di direzione variabile altrove. Con questo è tutto per questa settimana, concludiamo consigliandovi di seguire i prossimi aggiornamenti dei bollettini meteo sui siti di Arpa Piemonte, Rischi Naturali e Meteovetta e di utilizzare l'app di Meteovetta per essere sempre aggiornati sui dati in tempo reale e sulle previsioni. Da Arpa Piemonte un cordiale saluto e buon weekend! Grazie a tutti!